Ti do il benvenuto in un'altra sessione del nostro percorso di anti-ansia. In questa puntata ci occupiamo del body scan. Il body scan è un tipo di meditazione mindfulness che ti aiuterà a diventare più consapevole del tuo corpo e dei messaggi che il corpo ti dà nel momento presente. In questa meditazione sarai presente a te stesso, concentrandoti su tutte le sensazioni e gli stimoli che il tuo corpo ti regala. Il passato e il futuro non sono contemplati nella meditazione. La concentrazione è tutta focalizzata sul qui e ora del presente. Può capitare che tu ti distragga durante la meditazione. Prendi ciò che viene così com'è senza combatterlo e accetta che queste distrazioni arrivino alla tua mente. Allo stesso modo però lasciale andare proprio come se le lasciassi fluire in un fiume che scorre via da te lentamente facendoti ritornare alla meditazione. Prima di iniziare assicurati di avere i requisiti giusti per poter praticare in questo momento il body scan. Innanzitutto trova un luogo tranquillo e rilassato, possibilmente senza rumori ambientali di sottofondo. Indossa vestiti comodi e larghi e sdraiati su pieno sul letto oppure per terra su un tappetino da palestra. Ora sei pronto per iniziare. Se vuoi puoi chiudere gli occhi. iniziare. Inizia a prendere contatto con il tuo corpo e con le sensazioni che arrivano dal tuo corpo. Sposta la tua attenzione sul flusso naturale del tuo respiro. Quando ispiri la tua pancia si gonfia. Quando espiri la tua pancia si sconfia lentamente. La tua respirazione è completamente naturale. Avviene senza sforzi seguendo il flusso naturale del tuo corpo. l'aria entra dal naso. Passa attraverso la tua gola e scende ai tuoi polmoni. La pancia si gonfia. Hai ispirato aria dall'esterno. Ora la tua bocca si apre leggermente per far uscire lentamente l'aria. hai ispirato aria dall'interno del tuo corpo. Prendi consapevolezza del tuo respiro. dell'ispirazione e dell'ispirazione e della pausa che c'è tra la tua ispirazione e la tua espirazione. Rimani in ascolto del tuo respiro. Se alcuni pensieri riempiono la tua mente, rifocalizzati semplicemente sul tuo respiro. Lasciando fluire da fuori da te, insieme all'aria che stai ispirando, tutti i pensieri che avevano riempito la tua mente. Ora puoi rifocalizzarti sulla tua respirazione. Inspira, prendi aria. Espira, butta fuori. Ora, sposta la tua attenzione sulla parte alta della tua testa, dove c'è il chakra della corona. Prendi consapevolezza di tutte le sensazioni che arrivano dalla parte alta della tua testa. Lentamente, muovi la tua attenzione più giù, sulla tua fronte. Prendi nota di tutte le sensazioni che arrivano dalla tua fronte. Prendi consapevolezza dei tuoi occhi, delle guance, della bocca, della tua lingua. Prendi consapevolezza della tua gola e del tuo collo. Ora scendi lentamente e porta la tua attenzione sulle spalle. Prendi nota di tutte le sensazioni che provengono dalle tue spalle. Esposta lentamente l'attenzione lungo le braccia, le mani e le dita. Nota tutte le sensazioni che arrivano dalle spalle, dalle braccia, dalle mani e dalle dita. Ora porta la tua attenzione sulla parte anteriore del tuo corpo, dove c'è il tuo petto e i tuoi polmoni che respirano. Potresti anche sentire il tuo cuore che batte e potresti sentire il flusso naturale del tuo respiro. Ora porta la tua attenzione sulla parte posteriore del corpo, dove c'è la tua schiena. Rimani in ascolto di tutte le sensazioni che provengono dalla tua schiena, scendendo lentamente dalle spalle fino alla zona lombare. E ascolta tutte le sensazioni di questa zona. E ascolta tutte le sensazioni che provengono dalla tua schiena. Ora sposta la tua attenzione sulle anche, sulla parete pelvica e lentamente la tua attenzione scende lungo le gambe, dalla coscia alle ginocchia e giù lentamente fino alle caviglie. Nota tutte le sensazioni che arrivano da queste parti del tuo corpo, dalle anche, dalla parete pelvica, dalle gambe, dalle cosce, alle ginocchia, alle caviglie. Ora sposta la tua attenzione sui piedi e sulla dita dei piedi. Adesso che hai preso contatto con tutte le parti del tuo corpo, porta la tua attenzione su tutto il tuo corpo come sistema intero e cerca di essere consapevole dell'interezza del tuo corpo, di tutte le parti del tuo corpo. Adesso che sei consapevole di tutto il tuo corpo, concediti un momento di totale rilassamento e mantieni la tua attenzione al momento presente. quando ti senti pronto inizia a muovere lentamente le dita dei piedi. poi muovi i tuoi piedi e lentamente anche le tue gambe. poi inizia a muovere le dita delle mani poi le mani e infine la tua testa lentamente apri gli occhi e rimani in contatto con il tuo corpo e con le sensazioni che ti ha regalato rimani rilassato lì dove sei per qualche minuto e goditi il momento presente. il tuo corpo e il tuo corpo e il tuo corpo che ti ha regalato il tuo corpo. il tuo corpo e il tuo corpo che ti ha regalato il tuo corpo. il tuo corpo e il tuo corpo che ti ha regalato il tuo corpo. il tuo corpo che ti ha regalato il tuo corpo. il tuo corpo che ti ha regalato il tuo corpo. il tuo corpo che ti ha regalato il tuo corpo. il tuo corpo che ti ha regalato il tuo corpo. il tuo corpo che ti ha regalato il tuo corpo.